Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Il mio punto di vista ve lo spiego. Ma lo volete sapere o non lo volete sapere? È un pubblico ufficiale. No, certo, certo. Però uno può anche obiettare. Certo, lei ha ragione. Uno può obiettare. Allora, tanto per cominciare, in Consiglio Comunale si obietta uno per volta. Perché era un'ora che aspettavo di parlare. Quindi si schiaccia un tastino, ti toccano due o cinque minuti e devi parlare. E se non lo meni? No, è diverso. Se qualcuno mi aggredisce verbalmente, la sua aggressione verbale, evidentemente è continuativa. Scusate, se io qui in trasmissione comincio a fare... Quanto va davanti? Quanto è il tempo lecce? No, io non la meno. Un'ora, due ore. Però io comincio a contraddirla, che fa? Mi picchia? No, signore, è diverso. Se lei mi contraddisce, io non la picchio. Se lei mi impedisce... Abbiamo visto lì. No, scusi. Ha appena detto che non la facevano parlare e quindi era legittimata a reagire. Ha visto male. Lei ha detto male. Non ho capito male tutti. Mi scusi, non ho capito male tutti. Perché, scusi, il termine stesso reazione prevede un'azione. Allora, le voglio fare una domanda. Scusi, le voglio fare una domanda. Lei ha visto l'azione precedente o no? Le azioni non sono tutte uguali. Scusi, ma lei ha visto l'azione... Ho visto questo video e vedo che la portano via di peso. Non sono io a portarla via di peso. La polizia... Signora, mi deve perdonare. Se lei continua a parlare e a dirmi che c'è una reazione, le sto domandando. Lei ha sentito il signore che ha detto a me che io sono un pubblico ufficiale come lui, ma lui mi ha detto che io sono un pagliaccio criminale. Quindi chi può me la... Lui mi ha detto... Scusi, mi permette. Glielo ripeto. Poi gli arrivo alla fine. Sì, se lei alla fine non mi fa parlare e se lei mi offende, io posso difendermi. Quindi se continua in tempo, lei mi vecchia. È dell'egittima di farlo. C'è un tema, professor Dorsi, che però è più interessante... Però scusate, ora al di là... Allora, va bene. Mi interrompere, io la pizzo. Mi deve perdonare. Bandecchia è un...